salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul canale di ridden riders oggi siamo tornati nella zona tra lombardia e piemonte per fare un po di scouting di qualche traccia nuova adesso sono diretto al bar per la polazione tra un po ci vediamo con i miei due compagni di viaggio ciao eccoci qua siamo pronti alla partenza di questo giro di oggi i miei compagni di viaggio sono ivan con il suo nuovissimo 990 e marchino che vedete lì di culo con il suo dominator oggi faremo un misto fra una traccia che già avevamo e cercheremo di passare anche in quella del tet quindi vediamo un come andrà a finire ci vediamo appena inizia lo sterrato bella cominciamo cominciamo a fare un bel pattinamento mamma mia il dominator di marchino con il gpr senza db è bello soddisfacente un po troppo baccano per gli incusti ma cazzo se si sente che bello che cominciamo subito dal pezzo divertente oggi comunque ho scoperto come mai continuavo a tritare i cuscinetti mancava un distanziale c'era un distanziale mancante che mi sono dovuto far fare dal tornitore tra i cuscinetti della corona e i cuscinetti del mozzo però adesso in teoria i miei cuscinetti dovrebbero smettere di esplodere buongiorno 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 la molto bello un po' scurrevole ti ho detto farlo al contrario è più divertente eh perché devi andare un po' in salita adesso poi entriamo nella zona clou sei pronto bulldozer? e poi a venire in questa direzione ho visto diversi di cosa che non ci sono andando in direzione io non li ho visti hai già fatto? come on hmmm oh 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, primo punto in piano, panoramico con un po' d'ombra, pausa. Ok? Ok. Vado avanti io 50 metri. Ok. 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 Ciao